La lista dei socialisti e dei democratici sarà la prima rappresentata nel Parlamento europeo. Essere i primi significa avere un potere nella scelta del Presidente della Commissione europea e condizionare quel Presidente a fare l'interesse dell'Italia. L'interesse dell'Italia sono gli eurobond a sostegno delle sue politiche economiche e fiscali e soprattutto l'abbattimento del patto di stabilità, in modo tale da consentire ai comuni di spendere il portafoglio che hanno nel loro bilancio e che diversamente non potrebbero toccare.